buongiorno a tutti i miei cari amici dal vostro carissimo amico giacomo introna oggi 12 giugno 2023 buongiorno a tutti iscrivetevi al mio canale giacomo introna mettete un like al video se vi è piaciuto e condividete tutti i miei video iscrivetevi numerose al mio canale ci saranno tanti video e tante novità un bacio e un abbraccio a tutti dal vostro carissimo amico giacomo introna buongiorno a tutti